Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro gioco. Siamo ancora su Final Fantasy 7 Ever Crisis perché oggi una notizia incredibile. Abbiamo ufficialmente la prima collab con un altro universo di Final Fantasy. Come ci avevano già preannunciato o come già avevo anche io annunciato all'inizio del gioco, Final Fantasy 7 Ever Crisis sfrutterà tantissimo le collaborazioni con gli altri universi Square Enix. Il primo ad aprire le porte non sarà niente proprio di meno che Final Fantasy 9. Veramente tanta bella robetta anche perché innanzitutto cominciamo dal fatto che oggi è il 7 Quindi come sempre abbiamo il classico Gift Day of 7. Infatti vi ricordo che ogni mese, ogni giorno 7 di ogni mese Verranno distribuite 1000 GM a tutti quanti i giocatori. Quindi come sempre anche oggi ovviamente Essendo giorno 7 verranno distribuite queste 1000 GM. Infatti andiamole a prendere perché 1000 GM sono sempre 1000 GM e mi fanno molto molto comodo E poi andiamo a vedere il primo crossover ufficiale che arriverà presto. Arriverà presto con Final Fantasy 9. Boss speciali che ovviamente verranno rievocati per l'occasione. In questo caso abbiamo addirittura i 3 waltzer che saranno disponibili da affrontare durante questo crossover E praticamente saranno disponibili, qui vabbè viene definito alle 9 alle 6 pm ma per noi ovviamente sarà giorno 10 Perché vi ricordo che per noi ci sono 9 ore di differenza quindi per noi sarà giorno 10 Dove praticamente ci sarà un eccitante crossover dove ci saranno armi e equipaggiamenti ispirati ai personaggi di Final Fantasy 9 E addirittura nel trailer si vedono Cloud e Tifa Quindi finalmente Tifa riceverà una sua skin e ovviamente riceverà anche delle sue armi Così come con gli eventi crossover verrà inclusa, così come nell'evento crossover verrà inclusa anche una storia originale Quindi avremo anche una sorta di storia proprio originale fatta da zero, figata questa cosa E delle battaglie con dei boss esclusivi che per l'appunto caratterizzeranno questo crossover E ovviamente altre campagne, quindi altre varie campagne che saranno comunque disponibili presenti all'interno del gioco E poi vabbè ovviamente le solite note, questo contenuto potrebbe cambiare senza note eccetera eccetera Quindi abbiamo finalmente il nostro primo crossover Primo crossover, veramente tanta roba E vi allego anche il trailer in modo tale che voi lo possiate guardare Quindi guardiamo il trailer e poi nel caso, quando sarà, lo commenteremo insieme Magari lo commentiamo in live o comunque lo commentiamo in generale Però fondamentalmente parlando, le cose che dovete sapere è che si vedranno praticamente i waltzer Che saranno appunto i boss esclusivi di questo crossover E Cloud e Tifa che saranno i protagonisti di questo evento In quanto avranno un equipaggiamento simile a Jidan Anche Cloud possiederà un'arma simile a Jidan E Tifa invece non si vede diciamo in maniera molto concreta Però anche Tifa comunque sia avrà una skin Ed effettuerà degli attacchi che sembrano comunque essere degli attacchi magici Quindi potremmo avere praticamente forse una Tifa con abilità magiche Non lo so effettivamente, spero di noi in realtà Ma conoscendo il gioco penso che molto probabilmente Tifa abbia delle caratteristiche magiche Comunque vi lascio al trailer e poi casomai ne riparleremo Ecco ragazzi il trailer I waltzer come stavamo dicendo prima Cloud Che come potete notare possiede Praticamente La skin di Jidan E anche un'arma che sembra essere appunto uno delle dagger di Jidan Tifa che possiede anche abiti Tra l'altro guardate che figa Lei più che altro è Amarant Vedete Lei ha preso praticamente le sembianze di Amarant Infatti ha In ankles Dato che lui per l'appunto utilizzava in ankles I tatuaggi Della salamandra rossa Sulle spalle E i capelli Che sono comunque con delle sfumature rosse Che sono bellissimi Sono assolutamente bellissimi E fa praticamente la magia Vedete Fa un attacco magico E poi ci sono i waltzer tutti insieme Non credo che li affronteremo tutti insieme Perché non credo che li affronteremo tutti insieme Però Avete visto? Praticamente fanno il fantasy 9 Figata Figata Se le collab Le fanno così Sono veramente una figata pazzesca Veramente una figata pazzesca Dai Sono contento Sono veramente veramente contento Bella collab Bella presentazione Bellissima Tifa Tra l'altro con questi capelli rossi Così Con questi colpi di sole rossi Bellissima Vabbè Tifa È sempre Tifa Quindi questo è il trailer Per l'appunto ci presenta l'evento Che arriverà appunto giorno 10 2023 Quindi Veramente Veramente Tanta roba Tanta roba Ci saranno anche delle campagne Come già detto Presenti insieme Incastrate Tra di loro Quindi Avremo possibilità di guadagnare altre risorse È un banner dove probabilmente non pullerò Perché se Tifa Gli danno abilità magiche È cloud Prende abilità Diciamo Fisiche Che però Non mi intrigano L'unica cosa probabilmente Che mi interesserebbe Potrebbe essere la skin Di Tifa Ma non ci arrivo Perché le risorse Io ovviamente Non ce le ho Quindi Bisognerebbe vedere Se riusciremo In un modo o nell'altro A prendere risorse Ma comunque Vedremo Per il momento è tutto Grazie ancora Per essere stati con me E come sempre Alla prossima